Siamo tornati qui con un nuovo video Oggi siamo di nuovo con un video di Akinetor E prima di cominciare volevo salutare l'ultimo che mi ha seguito Che mi ha messo un mi piace su Instagram Che è Cosimo Peschechera Eccolo qui Ragazzi seguitemi su Instagram e magari Con ogni video da oggi Cosimo Peschechera Anche te Grandissimo Grande Cosimo due saluti Il personaggio che cerchiamo è Roccosifredo Voglio vedere se nelle domande esce Ha la minchia lunga 30 cm E tu metterai Sì Il tuo personaggio è nato in Italia? Sì Sì Penso di sì Vai Il suo personaggio è famoso grazie YouTube? Anche YouPorn E' famoso per la nostra serie di Minecraft D'Isolandi Famosi Anche per quello Vabbè comunque Probabilmente Mettiamo no No Ok Ha più di 35 anni? Sì Il suo personaggio è padre? Sì Sì Il suo personaggio è mai recitato in un film Beh anche dei film guarda Bellissimi film sono stati Stai facendo un video? Sì Bravo Stai facendo un cantante? Magari Le fa cantare però Si Le fa cantare forte No no Non è cantante Non è cantante E' un attore comico? Anche Qualche commedietta l'ha fatta durante il suo film I pezzi comici capito? Il personaggio è particolare a dei famosi? Eh sì Sì Il personaggio è vero Sì C'è sta sta domanda Sì Trovato Rocco Di Freddi Quanto cazzo è bella sta foto Ma secondo te esiste un'altra foto di Rocco Di Freddi? No C'è solo questa Ma la più altra ogni foto la posa è Ehi tu Oh you touch my tralala Ehi tu Le ho sto dette tanti Francesco Vita Ehi tu Il prossimo personaggio Sarà Rosario Muniz Sono curioso di vedere Il suo personaggio? Alla figa nel culo? Alla figa nel culo E' la italiana? Ssss Sì Probabilmente Il suo personaggio è veramente esistito Vai Sì Il suo personaggio è veramente esistito Purtroppo sì Ahimè Il suo personaggio è cantante Sì ha fatto Ha fatto due canzoni Com'era? Succhiapulli E? E? No Piace scoraggiare sulle cappelle Piace scoraggiare sulle cappelle Sì Ha fatto anche due canzoni Vivere Gemiglia Non ho idea No Il suo personaggio ha fatto parte della serie Violetta No No Ma tommagini Viene chiamato ringhio Ma che gattuso No Sì Ringhio perché c'ha i peli di gattuso Il suo personaggio è accident Sam e Cat Non ho idea di cosa sia Sam e Cat Vivi in Italia Sì Ahimè sì Sfortunatamente sì Partecipata agli amici No Buonrebbe forse No Lo salio muniz E' bello il cinese E' la versione cinese di Rosario Muniz Lo salio muniz Piace l'America? Buh Sicuramente se li incurrirebbe Non lo so Ha i capelli rossi? No Tommagini però ha i capelli rossi Mamma mia All by myself All by myself Il suo personaggio ha a che fare col fondo monetario internazionale Certo Mamma mia Sicuramente Ha i capelli lunghi? Sì Ha partecipato a Saremo? No No E' un designer Non credo Di cosa? De cazzi De cappelle De cappelle Ha usato più di 30 anni? Sì quello sicuro E' di alta mura Boh Non lo so Il suo personaggio è arricchito E' arricchito con la criminalità organizzata Rosario Muniz spacciabamba Mi ha mandato un riere Si Spacciabamba Eh la spaccia di pre Dopo cerchiamo di pre Voglio cercare l'avvocato E' stato a lungo No Rosario Muniz Mamma mia che schifo Mamma mia Ah Dio mio Dai ma per favore Prova a non vomitare E' benvenuto in un nuovo episodio Ci racchino proprio Imarò Cerchiamo Imarò Cerchiamo Imarò Cerchiamo Imarò E' italiano? Sì Famoso grazie di tutto Anche Probabilmente Terzo stage femmina? No Di Imarà E' un cantante? No Ha più di 35 anni? Sì Con il mondo dello sport? No Guarda se è sportivo stare in carcere Con la vera c'hanna Si Carcere sportivo Carcere sportivo No Hai recitato in un film? No Ma lo faranno Lo faranno un film di Imarò Si Si Sono ancora ancora Sono ancora militari Quindi Direi di si Probabilmente Stanno ancora a lavorare Sotto copertura Stanno a lavorare Ha dei figli? Si Non lo so se hanno Probabilmente Probabilmente hanno dei figli Ha avuto problemi con la legge? Si Tanti problemi con la legge Ha ucciso le simsie Usa una catapulsa per pulare Uaaaaa Uaaaaa Ma che no No C'è Il capitano di Si Si signor Non so capitani Non lo so Viene dalla sicilia? Non lo so Si Sono militare? Si si questo personaggio indossa una divisa scolastica? nooo sono militare il maro si è invischiativa la mafia eh ecco perchè quindi si stanno a far portare l'eroina dalla tagagna così tornano si sono fatti pure i raggetti a natale quando sono tornati apposta perchè si portavano a coda a cuga a cuga sono corrieri della droga regà quindi non più poveri maro ma fuck maro si cioè compramo dell'orevina e fare con il mare si si convive a dei figli attualmente no che cazzo ne so non lo so massimiliano la torre maro e l'altro però non so ancora nessuno l'altro è morto l'altro è maro girone non c'è girone ah perchè hanno fatti i sorteggi poco fa della champions ah ok questo video di akinetor può essere tutto diciamo vi giuro che il prossimo cercheremo sarà scazzi video di chi possiamo cercare nei prossimi episodi qui sotto se vi è piaciuto lasciamo 10.000 like come sempre ci becchiamo al prossimo video evviva i maro e seguiteci tu in stracan stracanem ciao 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 ciao